Radio Attività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. C'è una novità che arriva direttamente dalla Florida, dunque da quegli Stati Uniti d'America, che seguitano a essere la fucina fondamentale delle tendenze dell'ordine global capitalistico. Ebbene, la novità riguarda il fatto che alcune scuole della Florida hanno deciso di censurare William Shakespeare, segnatamente il suo capolavoro Romeo e Giulietta. È importante questa notizia, da che ci segnala come di fatto la cancel culture continui a mietere vittime e nessuno sia al sicuro. Per dirla con le parole di Walter Benjamin, anche i morti non saranno al sicuro se il nemico continuerà a vincere. E in effetti il nemico sta seguitando in anellare un successo dopo l'altro, come si evince anche dalla sorte in fausta a cui va incontro il nostro patrimonio artistico, culturale e letterario. Il motivo addotto per la censura a documento di William Shakespeare in Florida riguarda il fatto che l'opera shakespeariana conterrebbe, dicono, troppi motivi erotici e a sfondo sessuale, giudicati diseducativi rispetto alla nostra raffinatissima epoca. È davvero paradossale se considerate il fatto che il nostro tempo si caratterizza oltretutto per una erotizzazione integrale e fanatica dell'immaginario e per una sorta di costante svestimento dei corpi. Rispetto a questa tendenza le opere di Shakespeare appaiono decisamente pudiche. Siamo al solito trionfo regressivo di quella cancel culture che si presenta ipocritamente e prodittoriamente sotto il segno del progresso in tinta arcobaleno e che in realtà, se letta in trasparenza, deve essere classificata inappellabilmente come trionfo del regresso e della barbarie. Di una barbarie che pretende di fare tabula rasa del passato, di annichilire la nostra civiltà e di distruggere la coscienza storica e tradizionale. In tal guisa non si produce emancipazione come vanno ripetendo gli alfieri della cancel culture, al contrario si genera deemancipazione e imbarbarimento. anche in ragione del fatto che se non sappiamo più da dove proveniamo non possiamo nemmeno più sapere dove siamo diretti e nemmeno dove ci troviamo. E questo è il senso di smarrimento che caratterizza peraltro l'homo vacus contemporaneo, abitatore di un tempo senza tempo e di una civiltà tecnomorfa in cui gli uomini guardano gli schermi e non più il cielo stellato, creano centri commerciali e templi della finanza e non sono più in grado di erigere un tempio o una chiesa. La cancel culture, che propongo di tradurre con la formula cancellazione della cultura più che cultura della cancellazione, inanella dunque l'ennesimo successo e riesce una volta di più a fare tabula rasa del nostro passato. Lo giudica incompatibile con la civiltà a reificazione integrale della tecnica e pretende dunque di distruggerlo, con il gesto che abbiamo visto anni addietro con i talebani che facevano saltare in aria le statue e che oggi la cancel culture, che condannava quel gesto, ripropone in forma tecnicamente più evoluta. Come diceva Walter Benjamin, appunto, nemmeno i morti saranno al sicuro fin tanto che il nemico continuerà a vincere. Ed è esattamente quel che sta accadendo, nemmeno Shakespeare e Dante sono al sicuro al cospetto della barbarie che si autoproclama progresso e che nasconde dietro la policromia dell'arcobaleno il grigio autentico della civiltà dello spettacolo contemporaneo. Insomma, per dirla con una frase, si scrive cancel culture, si legge tramonto dell'occidente.